Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui insieme alessandro che ci porta la sua deco file ciao di labirint prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jack store il mio store per l'acquisto di prodotto coreano trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione detto questo ti lascio la parola e spiega perché 7-5 allora labirint mazzo che gioco da un po' di tempo e lo adoro diciamo che non c'è un modo preciso per villare bene questo mazzo adesso ultimamente ci sono varie versioni in giro e diciamo che uno lo potete villare come vi pare diciamo potete giocarlo come vi pare qua ci sono 30 carte di cancro e per il resto è tutta roba d'archetipo più o meno diciamo che adesso ci sono versioni anche che fanno il contrario ovvero tipo a 30 40 d'archetipo poche di cancro davvero si che ci fai e tiri l'ht ecco che tiri virus e va bene iniziando con la profile allora con la parte labirint abbiamo due arianna se ne può giocare una due tre ognuno veramente la gioca come gli pare qui soltanto due perché nonostante una carta ottima carta di consistenza diciamo che non vuoi mettere body subito sul terreno per un motivo che dirò dopo tre ledi perché ovviamente una carta fondamentale del mazzo oppure questa quando si può carta due però è quella la carta migliore poi due candelabri qui non è la versione completamente con tutti i mobili però deciso di fare una via di mezzo tra quella e la versione quella con più floodgate stan e quindi per l'appunto abbiamo anche una stufa questa è molto figa molto interessante per aiutarti a fare chaos angel poi vedremo mono lovely ovviamente il brick del mazzo e poi mono orologio pur lui un brick che però figo in combinazione con 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 i mobili poi sempre carte archetipo abbiamo la terreno e sempre di spell di consistenza extrava gioco queste perché visto che ci sono i mobili ti aiutano a darti più carte in mano per gli scartini e anche prosperity diciamo che una carta volendo si cioè si può giocare sarebbe meglio specie in diverse versioni però preferisco di più extrava e poi non ce l'ho manco per esperti quindi anche volendo per le ht perché comunque giochiamo un po di ht perché purtroppo il formato è quello che è un po l'index gioca purtroppo per non per non morisce abbiamo tre gamma e il simpaticissimo driver per questo appunto soltanto di ariana perché magari lo peschi insieme a ariana e non vuoi mettere un body su field perché dopo non puoi far gamma quindi aspetti e driver se lo peschi poco male perché ci sono i mobili quindi lo scarti di quelli e poi droll purtroppo tre rarità diverse bellissimo purtroppo il formato è quello che è il fatto che pure labrin deve però forza le cose giocare droll brutto però è quello che è e poi tre in perma perché è una trappola normale pazzi sono ridotti e diciamo che fatto che una trappola non sia una trappola normale che ht gli garantisce il posto diciamo è appunto passando alle trappole la parte più succosa interessante del mazzo forse abbiamo le trappole d'archetipo 3 big welcome e 3 welcome normale altre trappole normali abbiamo un po un toolbox generico di diverse trappole ognuno può giocare quello che vuole io al momento sto giocando mono da ruma figo contro cash tira o altri match up 2 punishment che è una carta generica fortissima 2 per 1 fantastico terrori che è molto interessante il modo in cui interagisce col cimitero quindi forte contro diversi mazzi e 2 compulsori e la trappola normale più generica anche se soltanto rimbalzo una volta non è molto e poi mono barrier questo si può tranquillamente aumentare a più però una carta insomma che si può cercare di led in ogni caso poi l'unica trappola non normale nel mazzo tripla skill drain a me i floodgate non piacciono troppo in questo mazzo però questo è semplicemente troppo forte per non giocarlo perché poi diventa sempre più forte più mobili si giocano perché questi si mandano di costo al cimitero sia da mano che da terreno quindi diciamo che pure sotto ski drain riesce a fare un value assurdo poi passando all'extra che insomma l'extra trani i target di punishment lascia il tempo che trova ognuno può giocare quello che vuole veramente appunto target di punishment abbiamo tripla antess appunto a 3 perché c'è extrava 2 bucefali è un grossone da sendare di punishment e poi dopo senda lui garura e quindi diciamo che di base garura è un 1.500 quindi è basso per sendarlo di punishment però con bucefali appunto lui come se targettaste un poteste targettare un mostro di 3.500 d'attacco o meno sendate lui e poi lui senda garura e poi sempre target di punishment ma anche se può fare visto che giochiamo gamma abbiamo omega meriologic che è forte contro diversi matchup e malong che è carta nuova da severstone access molto interessante può anche essere aumentato molto interessante sempre di punishment abbiamo il grossone zombie stein che se può far volendo pure sotto skill drain perché è un grossone e poi carte generiche utility forte nel mazzo in generale abbiamo due mackracker molto forte e il link generico per essa demoni poi io gioco pure mono cerbero e mono dark 2 link 2 generici e poi diciamo che la quindicesima sarebbe un chaos angel che non ho purtroppo e quello veramente se non può giocare 1, 2, 3 costa tanto quindi insomma dipende dalla disponibilità che uno ha però è davvero una carta tanto forte nel mazzo che lo fai con lady con tipo normali uno di questi oppure lui si resta per l'effetto quindi ne di più questo e il punto è che è un demone pure di livello 8 superiore quindi pure se controlli solo lui può comunque fare l'effetto di big welcome quello forte da cimitero ed è molto buono combo di mazzo ovviamente nemmeno a dirlo non è che il mazzo ha delle combo è un contro un stand tranquillo l'unica roba che può capitare in interazione particolare che uno può fare nella mano iniziale ma di solito non si fa perché more dash è se ti capita uno di questi due in mano cioè ho pure un modo per accedervi più orologio e in pratica come funzionano loro lui in pratica scarti uno di fai l'effetto di un mobile e lo scarti e poi dopo scarti pure prima ancora scarti di effetto di orologio lui va a settarti una trappola labyrinth a mazzo e poi dopo parte l'effetto di orologio che si può o riaddare in mano oppure si speciala sul terreno noi del mobile ci andiamo a settare ad esempio andiamo a settare big welcome che possiamo poi andare a attivare subito con orologio però dobbiamo controllare un labyrinth però orologio si può riaggiungere in mano oppure evocare special sul terreno quindi questa combo si può fare pure a turno 0 semplicemente poi dopo andando a evocare special l'orologio dopo che abbiamo scartato del mobile quindi possiamo attivare subito big welcome oppure salviamo settata questo turno big welcome ci porta ad ammazzo lovely e rimbalziamo l'altro mostro labyrinth in mano a questo punto si triggera l'effetto di lovely di spaccare uno dalla mano dell'avversario dal terreno dalla mano dell'avversario in questo caso sia turno 1 turno 0 molto probabilmente dalla mano dell'avversario quindi facciamo meno 1 una volta che questa va al cimitero possiamo fare effetto i lovely per risettare big welcome e rifarlo nella stand by dell'oppo quindi già solamente questa roba qui fa end loop da 2 alla mano dell'oppo purtroppo però muore fortissimo dash questa cosa quindi diciamo che è meglio farla soltanto se si vuole rischiare insomma e a posto e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di labyrinth e se è cancerogico come eldrich vabbè dai tanto stai sulla stessa linea di eldrich e flandere se uno dopo gioca effettivamente dieci floodgate come eldrich però puoi anche farne a meno dai detto questo ragazzi fatemi sapere se volete alessandro nuovamente sul canale e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti